...una bellissima giornata di festa. Il tema scelto quest'anno è rappresentato da alcuni dei film del genere fantastico che il famosissimo attore Johnny Depp ha interpretato doppiato. Ecco perciò aprire la sfilata i bambini vestiti con i costumi di Lompa Lompa, gli aiutanti del padrone della fabbrica di succolato, subito dietro altri miracoli e noi come lui abbiamo deciso di intraprendere lo stesso viaggio e tu vuoi venire con noi, il paradiso ci attende. Va bene, andiamo insieme tutti a Don Franco al paradiso, sperando che tengono le bovone chiuse, ma che bello, è una rifugina, è un amore che si chiama Asga, bello, complimenti. Ma manteniamo subito, è la panacea di una lora dell'albero, bellissimi, anche loro coloratissimi. E quindi, erano quelli del di Domenico. Un minuto, e un minuto da qui, quindi un minuto, ogletà di Kofford, un minuto che è altra parte dell'ipidia, Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti.